Mister, bellissimi per un'ora, poi un secondo tempo in cui abbiamo retto peccato per quel gol nel finale, però una gran partita. Sì, abbiamo disputato una gran gara, un'ottima partita, un primo tempo superlativo, poi sapevamo che probabilmente reggere e tenere quei ritmi sarebbe stato difficile, è venuta fuori la forza anche del Brescia, forza tecnica, forza fisica che ci ha un po' messo là. Ci servirebbe anche un pizzico di buona sorte per raggiungere un risultato pieno, in questo momento ci portiamo a casa la soddisfazione di una grande prestazione e di un punto che comunque fa classifica, fa morale, su un campo e contro una squadra forte. Un derby a tutti gli effetti, un grande spettacolo anche sugli spalti in generale per il territorio e per la città. Sì, è stata una bella festa, sicuramente per gli sportivi, per il calcio bresciano, siamo contenti di essere stati all'altezza di una squadra forte come il Brescia, di aver proposto una gara importante. Noi ci siamo, siamo una squadra che sta lavorando, può lavorare, può migliorare ancora, deve migliorare ancora, perché questi sono i presupposti che ci devono portare poi alla salvezza. I valori questa squadra li ha per poter raggiungere questo obiettivo. È chiaro che bisogna portare a casa tre punti quando sono vicini come oggi. E adesso la sosta? Adesso è un'altra sosta che ci permette ancora di lavorare, ci permette ancora sicuramente di crescere ancora un po', lo era stata già la prima, ci siamo ripresentati dopo la sosta con un livello più alto sicuramente. E dopo questa sosta succederà lo stesso, perché questo è un gruppo che lavora, non si è mai risparmiato e quindi è predisposto a crescere e a migliorare ancora di quello step che ci permetterà poi di portare a casa il risultato pieno.